Ciao. 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 Sono Sara Rondini. Sono Alberto Albertino. Mi chiamo Daniel De Rossi. Sono Sara Morassut. Sono Daniel Terra Negra. Sono Antonella Petrone. Interpreto Anna. Interpreto la bambina. Interpreto Arnoldo Mosca Mondadori. Interpreto il ruolo di Paolo. Interpreto il ruolo del professor Gandini. Interpreto Alda Merini nello spettacolo Dio arriverà all'alba. Scritto e attraverso il tuo scritto. In scena al Teatro Cometa Off di Roma. Dal 16 al 21 gennaio. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao.